buongiorno amici e amiche di youtube iscrivetevi al mio canale fanta masche sofia m gruppo telegram un nuovo gruppo telegram che abbiamo creato diciamo che parliamo un po di questa di questa partita ma rovinato la pasta e la pasquetta ieri sera una partita dove siamo stati nel primo tempo e nel secondo per tutta la partita praticamente siamo stati dobbinate della lazio c'è stata solo una squadra la lazio noi eravamo in difesa sempre col solito gioco a tendista il solito non gioco a tendista abbiamo subito varie volte ci sono state occasioni con castellanos che poteva segnare cesni ha rischiato anche di regalare un gol petro è intervenuta in scivolata poi per fortuna sono riuscito a sbagliare la situazione abbiamo avuto solo un'occasione con bremer fuori poi ci sono stati anche dei cambi una squadra ha messo in campo malissimo ha messo cambiasso esterno d'attacco poi ha messo deciglio ha fatto un qua una sorta di 4 3 3 difensivo poi ci sono stati dei cambi eserciti finalmente entrato mckenny è entrato il junior però poca roba veramente giusto ecco come che si è visto un centrocampo un po più equilibrato una squadra un po più diversa ma non c'è stato niente da fare abbiamo subito gol nel finale nei minuti di recupero e questa volta il culo d'allegri non ha funzionato all'incapace alla capra in panchina perché abbiamo subito gol 90 più recupero con marosic su un assist di guendunzi anche qua ci sono stati dei cambi il nuovo entrato da parte di tutto tutto in una settimana ha saputo già dare un impronta di gioco con il 3 4 1 2 la sua squadra mentre alle che sono tre anni che il gioco non c'è sono tre anni non c'è mai stato con alle di gioco e infatti vincevamo perché avevamo la squadra più forte grazie al cazzo è facile vincere quando hai la squadra più forte campionato i veri allenatori si vedono quando quella squadra più forte non ce l'hai e devi soperire in qualche modo tramite il gioco a a dar fastidio alle altre come ha fatto per esempio pioli quando ha vinto lo scudetto con il milan anche se la gliel'ha regalato l'inter però come ha fatto spalletti con napoli questi sono i tecnici lui è un non tecnico sulla nostra uno supporto un usurpatore sulla nostra panchina porca puttana oggi sono poi mi sono svegliato pure di malumore ieri ho preso sonno verso le 3 alle alle 4 sono andata a dormire alle 4 di ieri sera meno male che sono andato da una amica a mangiare la pizza e quindi la serata è stata diciamo un po meno amara però però così non si può andare avanti adesso l'atalanta ha vinto dato la lezione al napoli vinto 3 a 0 un napoli un po moscio dire la verità e quindi oggi magari se vince se vince la roma pure con lecce il bologna con la salernitana molto probabilmente farà appunti e quindi le squadre si renderà meno 2 quindi le squadre si avvicineranno e dobbiamo stare attenti anche che rischiamo di non centrare la champions league se non centriamo la champions league quest'anno sono dolori perché la squadra rischia un ulteriore ridimensionamento perché verranno a mancare quei soldi dalla dalla competizione champions per fortuna che c'è questo mondiale per club che per 50 dei milioni ci ci aiutano un pochettino questo se ne deve andare subito se ne doveva andare subito dalla juve purtroppo ci abbiamo elkan che non capisce un cazzo e quindi lo tiene la non tiene la in panchina alla prossima ragazzi vi aveva una buona pasqua e buona e ci vediamo per la prossima giornata sperando che il culo assista allegri ritorna il culo perché noi solo sul culo ci possiamo basare con il gioco solo sul culo che dire sui giocatori ma cambiasse non l'ho visto male bremer in fase difensiva lo visto abbastanza bene anche pericoloso in attacco anche se lui qualche piccola leggerezza in partita se la concede ma ci sta visto che deve reggere quasi lui solo il peso dell'attacco poi rugani diciamo discretamente bene anche se ha rischiato di farsi autogol con quella quella palla all'indietro data scesne di testa era data un po forte e poi per il resto meccani buono danilo discretamente ken proprio impalpabile un non giocatore un giocatore che andrebbe bene per squadre di serie b o per squadre di centro media classifica e quindi tutto qua mancava vola avvic mancava melic iddiz poi l'ha tenuto anche in panchina non capisco perché chiesa è stato ecco chiesa ha creato anche due o tre occasioni in chiesa diciamo da sei e mezzo e delle sei e mezzo perché non può fare tutto da solo chiesa infatti non trovava mai il compagno a cui dare la palla per chiare un'occasione pericolosa c'è stata solo quell'occasione che ha tirato e mandarsi potere mandarsi ha deviato il pallone quindi quando quando alle occasioni chiesa si rende pericolosa si rende pericolosa da solo figuriamoci quando c'è qualche rarissima azione da parte della juventus di qualche giocata corale ragazzi io non ho più parole non ho altro da aggiungere vi saluto commentate sotto il mio video come sono andati i vostri fantacalcio fatemi sapere anche la vostra impressione riguardo la partita sempre forza juve a leghi out